Il mare calabrese rapisce i turisti, il 43% decide di tornare in regione, è quanto emerso dal focus group di Union Camere Calabria con le Camere di Commercio regionali. La motivazione balneare si mantiene al primo posto con il 54%, seguita da quella culturale con il 30,4%, in linea con la media italiana. L'88,4% dei turisti dunque fa gite al mare, il 48% fa escursioni nel mare. Il dato dunque analizzato da focus group per la lettura condivisa dei dati sul turismo per la pianificazione, lo sviluppo e il monitoraggio del territorio calabrese, organizzato come dicevamo da Union Camere in collaborazione con le Camere di Commercio di Catanzaro, Crotone, Vibo Valencia, Cosenza e Reggio Calabria nell'ambito delle iniziative previste dal progetto Sostegno del Turismo del Fondo di Perequazione 2021-2022 con il supporto tecnico-scientifico di ISNART, Istituto Nazionale delle Ricerche Turistiche. L'indagine ha investito nel corso dell'estate un campione di 1.253 persone, che erano tutti visitatori italiani e stranieri, che hanno alloggiato sia in strutture ricettive che in abitazioni private durante il loro soggiorno nella nostra regione per rilevare i comportamenti turistici e di consumo. Secondo dunque i primi risultati nell'analisi, nell'estate 2023 la motivazione è tutta balneare e si mantiene al primo posto, con un numero importante, ovvero il 53%. Sui canali invece di comunicazione il ruolo forte di soggiorno è Internet nella scelta. Il 48% usa la rete e si allinea al dato medio dell'Italia. Si rileva, come di consueto, un marcato fenomeno di repeating, cioè chi ritorna il 41,1% quota in proporzione superiore alla media nazionale del 15%, quindi un numero totalmente diverso. Questo ci va a capire che chi viene nella nostra regione molto spesso vuole ritornare. Una volta a destinazione, l'88,4% dei turisti fa agite al mare. Il 48%, complice della natura, anche montuose della regione, si gode escursione e gite nel verde. Insomma, la nostra caratteristica fondamentale è quella delle brevissime distanze tra mare e montagna, che viene molto apprezzata dai visitatori.